E oggi martedì 24 di ottobre 2023 il Signore ti benedica da Sion, possa la sua grazia continuare a essere sparsa sulla tua vita e sull'intera tua famiglia, che Dio ti possa accompagnare anche in questo giorno con la sua benedizione, con la sua grazia e con la sua misericordia. Amen, gloria a Ora vogliamo ascoltare il versetto di oggi, la parola del Signore che ristorerà il nostro cuore perché abbiamo bisogno, abbiamo fame, abbiamo sete, abbiamo desiderio di ascoltare la voce di Dio e quindi non rubo altro tempo, leggeremo subito la parola del Signore che dice così Il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Testo che puoi trovare nella prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetto 7. Ed ancora, Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel figlio suo. Chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Testo che puoi trovare nella prima pistola di Giovanni, capitolo 5, i versetti 11 e 12. Il titolo di questo messaggio è questo, l'ascensore. Più di un secolo fa un predicatore dell'Evangelo scese in una miniera per far conoscere ai minatori l'amore di Dio che offre gratuitamente la libertà dal peccato e la vita eterna a tutti coloro che credono nel suo figlio Gesù Cristo e nel suo sacrificio ovviamente sulla croce. Uno di loro obiettò è troppo a buon mercato per me. Il predicatore gli domandò voi come uscite da questa miniera? Con l'ascensore rispose il minatore. In qualche minuto rivediamo la luce del sole. In effetti è molto facile ma scavare questo pozzo e installare a questa profondità tutto il meccanismo ha richiesto molto lavoro. Sì, il proprietario ha speso una fortuna ma è l'unico mezzo per uscire dalla miniera. Eppure quando Dio dichiara che chiunque crede nel suo onigenito figlio ha la vita eterna voi dite è troppo a buon mercato. Sarebbe come non usare l'ascensore con il pretesto di non averlo pagato. farci uscire dal baratro in cui il peccato ci ha fatto sprofondare è costato un prezzo ben più alto di quello che avremmo potuto pagare. Vi ha provveduto Dio donando il suo unico figlio Gesù Cristo che sulla croce ha sacrificato la propria vita subendo lui il castigo di Dio riservato ai nostri peccati. Il debito è stato saldato. Dio non ci chiede altro che di credere e accettare il suo perdono meraviglioso. Egli ti chiama oggi stesso. Non rifiutare il suo amore. Esci dal buio e vieni alla sua meravigliosa luce. Dio ti benedica da Sion. Dio ti benedica da Sion. Dio ti benedica da Sion.